La crisi al comune di Teramo rimane aperta come una ferita non rimarginata. Il primo consiglio comunale dopo la revoca delle dimissioni di Maurizio Brucchi ieri è saltato per l'assenza della maggioranza che non si è presentata in aula dopo il primo appello delle 18 andato a vuoto lasciando da soli gli 11 consiglieri di opposizione gli unici presenti. Assieme al sindaco però giunto al fotofinish solo per annunciare l'azzeramento della propria squadra di governo e dichiarando che si prenderà un'altra settimana di tempo per trovare la quadra sui numeri. Sì perché nel corso del pomeriggio una lunga riunione di maggioranza si era protratta in via Carducci, riunione che però secondo Brucchi avrebbe portato i suoi lauti frutti. Verrà utilizzata questa settimana, quindi fino alla seconda convocazione fino al 13 per cercare una posizione con Zivisa per quanto riguarda il programma e per quanto riguarda l'esecutivo. Ritengo che ci sono, come dire, è stata una riunione che ci permette di vedere il mezzo bicchiere pieno, mettiamola così. Io ritengo di aver fatto tutto quello che era nelle mie corde per cercare di mantenere in piedi questa amministrazione, ma oggi anche la maggioranza ha dato prova di responsabilità, di senso di responsabilità. Brucchi ha ammesso di avere 18 consiglieri dalla propria parte, i rumors darebbero per certo un ritorno di Guido Campana nelle grazie del primo cittadino con i tre dissidenti, sbraccia, caccione e falasca dentro con un'ipotesi anche di giunta a sette fuori, solo Eva Guardiani e Silvio Antonini. Durissima comunque le posizioni delle opposizioni consigliari con il consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini, che anche oggi ha dichiarato come quanto accaduto, confermi la profonda crisi politica e sociale in cui è sprofondato il comune di Teramo. Brucchi ormai elaborato dalle lotte intestine è ben consapevole che l'atto di azzeramento della giunta compiuto ieri è stato solamente un astuto stratagema per tenere buoni i dissidenti. Duro anche il commento del capogruppo del PD, Gian Guido D'Alberto, la maggioranza ha dimostrato l'ennesima fuga dal Consiglio Comunale, sono fuggiti dal confronto perché non si è trovata la quadra sulle poltrone. L'appuntamento comunque certo è a martedì 13 giugno, quando con solo un terzo dei consiglieri si potranno votare i provvedimenti quali la rimodulazione dei fondi per il masterplan.